L'esercitazione della mitigazione Punele. Ah, che bella. Orora è mandala. E dove è quello della pune? E qui. All right, here we are. We've just finished making the mandalas. Here's the maianlas. Questo è il mandala d'orora. E questo, questo mi piace un montone. Fantastico. Il mio sembra è un orecchione. Ok, Orora. Orora is helping me paint my mandala. This is my mandala. Lots of love coming out for lots of people. All right. Fantastico. Divertido in... In... Loro. Un business piccino. Ecco. C'è l'anime? Sembra che c'è l'acqua. Bellissimo. Maura. 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 Maura.